Procuratore a te, posso considerare anche lei vittima dell'andrangheta? Perché da 34 anni sotto scorta, voleva una pierda di un figlio, voleva ammazzare un altro figlio, insomma, forse però la medicina vale la pena. Sì, ogni cosa ha un prezzo nella vita, non esiste il concetto di gratis. Quando si vogliono fare le cose in modo determinato e si è convinti che ciò che si fa serve, si è disposto a fare qualsiasi sacrificio per un risultato. Tutto ciò che serve per la collettività dobbiamo farlo. I suoi figli e sua moglie come l'hanno presa? Quando erano bambini, quando erano ragazzi non capivano. Ora negli ultimi anni, ora sono tutti e due medici, hanno capito, capiscono perfettamente che se mancavo di casa era perché ero in giro per il mondo. Che cos'è oggi l'andrangheta? L'andrangheta in questo momento è l'unica mafia presente in tutti i continenti. L'unica mafia che è in grado di andare alla foresta amazzonica e comprare un chilo di cocaina con un principio attivo del 98-99% a 1.000 euro, mentre le altre mafie lo comprano a 2.000-2.500 euro. Questo dato è importante non per un fatto economico, ma per far capire il livello di credibilità che il brand andrangheta ha nei confronti delle altre mafie, soprattutto sudamericane. Cioè io mi presento come andrangheta e mi fanno lo sconto subito? E' un passepartout. Addirittura, se all'andrangheta viene sequestrata al porto di Gioietauro 2.000 kg di cocaina, l'andrangheta va col verbale di sequestro della droga e i cartelli colombiani gli danno altri 2.000 kg senza pagare. E perché questa credibilità? Perché l'andrangheta è una mafia asciutta, cruda, senza fronzoli e lascia, rispetto al numero degli andranghetisti, rispetto alle altre mafie, durante il percorso, durante il viaggio lascia per strada pochi collaboratori di giustizia. Senta, lei da procuratore di Napoli adesso deve occuparsi di Camorra. Sì. E' vero che l'andrangheta è molto più potente della Camorra? Sicuramente è più ricca. Ci sono tante Camorra. C'è una Camorra che somiglia anche all'andrangheta. C'è una Camorra molto evoluta che è in grado, ad esempio, di estrarre bitcoin. Noi la settimana scorsa la procura di Napoli ha sequestrato 1.800.000 euro di bitcoin che il giudice di Napoli è riuscito a trasformare in euro e già questi soldi sono nel FUG, nel Fondo Unico della Giustizia. Senta, è vero che la Camorra compra la cocaina dall'andrangheta? No, e soprattutto Cosa Nostra che compra. Da 25 anni Cosa Nostra palermitana, Cosa Nostra canattanese, compra la cocaina dall'andrangheta. C'è una John Venture, c'è John Venture anche con la Camorra, ma la Camorra la compra soprattutto in Spagna, dove ci sono colonie di colombiani che hanno deposito anche 10.000 kg di cocaina. E uccide ancora o si limita a fare soldi? Non c'è bisogno di uccidere. Ormai è più facile morire in casa che non per mano delle mafie. Le mafie non uccidono più perché oggi è più facile. Se c'è bisogno di penetrare la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione si fa corrompere facilmente oggi. Non ha bisogno più di uccidere. Senta, ma è vero che il giro affari dell'anno scorso sull'andrangheta è stato una ventina di miliardi? Sì, ma supera una finanziaria. Sostanzialmente si parla anche di 50 miliardi di euro. Solo droga? No, tutto il business dell'andrangheta supera i 50 miliardi di euro. La cocaina è l'affare in assoluto più redditizio perché ancora c'è molta richiesta in Europa, soprattutto nel mondo occidentale, e l'andrangheta porta in Europa circa l'80% della cocaina. Senta, lei va nelle scuole a dire che fare il mafioso non conviene. Sì. Che significa? Perché io non vado a parlare ai ragazzi oggi in termini di morale o di etica si è perdenti. Oggi ai ragazzi che sono stati educati nel corso degli ultimi decenni dalle multinazionali, dal consumismo, in una società in cui oggi si conta in base a ciò che si ha e non in base a ciò che si è. La cultura non è più un valore. Allora per essere ascoltati ai ragazzi bisogna parlare di soldi, bisogna parlare quanto guadagna un corriere di cocaina, quanto guadagna un panettiere, un idraulico. Solo con questi discorsi vi ascoltano. Altrimenti se uno si mette a fare discorsi filosofici o di alta morale, dopo tre minuti giocano colture di frio. E allora perché non conviene ai gioventi? Non conviene perché portare cocaina dalla Calabria a Roma si guadagna 1.500 euro per portare 4 kg di cocaina, ma 1.500 euro li guadagna un idraulico in una settimana. Senta, in questi, è uno scrittore di successo insieme con Nicaso, questo suo ultimo libro, il Grifone, parla della tecnologia avanzatissima. Sì, questo è un libro che si proietta sul futuro, è un libro un po' azzardato, perché noi scriviamo in questo libro cosa accadrà nel futuro delle mafie. Cioè le mafie, la punta avanzata delle mafie ormai, sono in grado di pagare, di assoldare degli hacker tedeschi, degli hacker rumeni, perché in Romania c'è ancora la cultura di Ceosescu, della matematica, dove ci sono dei matematici, quindi degli hacker molto bravi, l'Andrangate li ha pagati, li ha soldati, e noi abbiamo assistito a triangolazioni in un quarto d'ora in tre paesi diversi del mondo che toccavano tre continenti. Quindi questo è il futuro delle mafie. Le mafie che oggi sono in grado di costruire delle piattaforme, come un nuovo Whatsapp, un nuovo Telegram, quindi parlano sopra le nostre teste. Noi non le ascoltiamo, perché purtroppo ai noi, i governi che si sono succeduti, non hanno investito in informatica, non hanno investito in quello che stava accadendo, in quello che accade oggi e che accadrà. Ha avuto qualche problema di coscienza quando ha mandato in prigione le persone poi assolte? Dispiace, guardi, il nostro lavoro è un lavoro, è un lavoro duro, è un lavoro difficile, possono accadere degli errori, ma molte volte se una persona è assolta non vuol dire sempre che non ha commesso il reato, può anche voler dire che non si è raggiunta la prova. Eh, non mi faccia il davigo adesso. No, no, io non faccia il davigo adesso. Donne, assolutamente. Io mi sono costruito una vita per dire quello che penso, non ho bisogno di copirmi. Ho letto che l'orto, coltivare l'orto la rilassa. Sì. Qual è la verdura che le viene meglio? Ma tutte. Io sono un bravo contadino, infiltrato in magistratura. Grazie procuratore, buon lavoro. Grazie.